va ora in onda al culto evangelico valdese la predicazione di oggi è curata dai pastori claudio pasche e donato mazzarella buon ascolto fratelli e sorelle in ascolto buona giornata e buona domenica vogliamo raccoglierci e invocare il nome del signore santo 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 e il signore degli eserciti tutta la terra è piena della sua gloria grazie a voi e pace da colui che è che era e che viene dai sette spiriti che sono davanti al trono e da gesù cristo il testimone fedele il primogenito dei morti e il principe dei re della terra benedetto sia il dio e padre del nostro signore gesù cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in cristo in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazie preghiamo dio eterno e onnipotente tu hai mandato nel mondo la tua parola fatta carne in gesù cristo e hai effuso il tuo spirito per radunare la chiesa e far conoscere la tua grazia a tutti ti preghiamo fa splendere il tuo volto su di noi perché possiamo conoscere pienamente il tuo amore che ci ha dato la vita la tua grazia che ci ha liberati dal male la tua forza che ci rialza e ci conduce donaci di lodarti e celebrarti nell'attesa del giorno in cui ti vedremo faccia a faccia dio unico e tre volte santo e tre volte santo. Amen. Santo, 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 l'eterno degli eserciti, tutta la terra e prima della sua gloria. Santo, 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 l'eterno degli eserciti, tutta la terra e prima della sua gloria. Il testo su cui riflettiamo quest'oggi è dal libro dell'Esodo e narra di un episodio probabilmente centrale della vita di Mosè. Esodo 3, i versetti da 1 a 10. Mosè pascolava al greggio di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il greggio oltre il deserto giunse alla montagna di Dio, a Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme. Ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè. Ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse, ho visto. Ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i cananei, gli iteti, gli amorei, i ferezzei, gli ivvei e i jebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Ordunque va, io ti mando dal Faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè ha già passato dei bei guai in Egitto. Si trova dopo una giovinezza passata alla corte del Faraone a dover scegliere da che parte stare e nel difendere un povero ebreo maltrattato dai sorveglianti egiziani, uccide il sorvegliante e allora diventa un fuorilegge, deve fuggire Mosè. Trova finalmente pace e tranquillità nella terra di Madian dove fra l'altro si sposa, vive tranquillo, fa la sua vita che è quella del pastore nomade che si occupa delle sue greggi, principalmente capre ma non solo. È lì, ha chiuso una parte della vita e Dio, non sappiamo i pensieri di Mosè ma probabilmente Mosè penserà che Dio è lontano, è rimasto in Egitto. ma nella tranquillità della vita Dio che è l'unico santo con la S maiuscola si ripresenta a Mosè, si ripresenta anche a noi, anche quando pensiamo di essere tanto tranquilli, si ripresenta con un progetto. Dio si presenta nella nostra vita perché se Dio ti ha dato la vita può anche avere dei progetti per te. Come si presenta? Sono molti i modi in cui Dio può presentarsi a noi nella nostra esistenza. Nel caso di Mosè si presenta in un modo perlomeno strano, almeno per la nostra mentalità moderna. Un cespuglio che però brucia senza consumarsi mai. Allora anche su questo vorrei attirare la vostra attenzione. Un cespuglio non c'è niente di più normale, ne troviamo dovunque, però nella normalità può scaturire, fare capolino la straordinarietà di Dio. E in questo caso lo straordinario è questo cespuglio che non brucia, brucia ma non si consuma. Il più delle volte Dio si ripresenta a noi non con dei cespugli che bruciano, ma con delle domande, domande alle quali non sappiamo rispondere da soli, sulla vita, sul suo senso, sul male, sulla giustizia, sul dolore, sulla morte e sul dopo. Ogni volta che noi ci facciamo afferrare da queste domande proviamo a pensare se dietro questo segno non vi sia Dio che si rivolge a noi. Dio si presenta in molti modi, ma proviamo a pensare a tutte le volte in cui Dio si presenta a noi quando siamo di fronte all'incomprensibile. In questi giorni, nei giorni in cui sto registrando questo culto, siamo vicini alla tragedia che ha colpito la Romagna e molte persone intervistate si chiedono perché, come è possibile. Ora certo ci sono sicuramente tutte le responsabilità umane del controllo del territorio, ma c'è anche una domanda di fondo alla quale dovremmo rispondere, che siamo fragili. Come esseri umani anche le nostre costruzioni sono terribilmente fragili e di fronte a questa fragilità ecco che forse dovremmo farci interrogare da Dio. di fronte a questo cespuglio che brucia, Mosè potrebbe semplicemente ignorare, averne paura a stare lontano oppure andare a vedere. Sono poi le tre alternative che abbiamo sempre di fronte alle grandi domande della vita, ignorarle. Ho troppo da fare, ci penso poi, anche a Dio, adesso devo badare al mio lavoro. Oppure averne paura, non mi parlare di morte, per favore, no, non voglio sentirne parlare, come se in qualche modo senza parlarne la esorcizzassimo e non esistesse più. Oppure volere capire di più, cercare risposte che non sono nostre ed è quello che fa Mosè ed è quello che dovremmo tentare di fare anche noi. Quel pruno ardente brucia, forse è bene andarlo a vedere per cercare di capire, anche se non so bene cosa ci sia da capire. Perché se fai il curioso, se vuoi capire di più sulla vita, sull'esistenza, puoi trovare un Dio che ti parla anche oggi. Ora qui, poi c'è tutto il grande discorso che Dio fa a Mosè, dove gli dice sostanzialmente non sono assente, mi ricordavo di te, perché per te adesso ho un progetto, ma mi ricordo anche del mio popolo che sta soffrendo là in Egitto, in quella terra che a te sembra così lontana. Io mi sono ricordato delle sofferenze del mio popolo. Ecco, se noi, passatemi l'espressione, ci cerchiamo di essere curiosi con Dio, di rivolgerci a Lui, possiamo trovare tre cose. Uno, che Dio si ripresenta sempre nella nostra vita, anche se altre volte siamo scappati, anche se altre volte abbiamo detto non ho tempo, Dio continua a ripresentarsi, a riproporre se stesso come progetto per noi. La seconda è, ma Dio non è solo per te, Dio è per te, ma vuole che tu sia in funzione degli altri, vuole che tu viva non pensandoti come una realtà isolata, ma come una persona in comunione con gli altri. Tu, anche se sono lontani, caro Mosè, sei sempre in comunione con i tuoi fratelli e le tue sorelle che soffrono la schiavitù in Egitto. E poi Dio, terza cosa, ci dice, tu puoi fare qualcosa. Certo, non la grande epopea di liberazione di cui Mosè è stato il leader, ma possiamo fare anche piccole cose che però sono grandi per liberare il nostro prossimo dalla sofferenza, dal dolore, dalla solitudine, dall'angoscia. Ecco, non dimentichiamoli, perché queste risposte potrebbero essere anche interpretate così. Tu e Dio, tu e Dio, non temere. Anche se ti sei allontanato dal Signore, Lui a te continua a ripresentarsi. Tu e gli altri, i tuoi fratelli e le tue sorelle esistono, possono essere lontani come i disperati di oggi, gli immigrati, i senza speranza, i terremotati, quelli colpiti dalle alluvioni. Ma tu sei in rapporto con loro. Dio e gli altri. Dio vuole occuparsi anche di loro e vuole farlo attraverso la tua opera, caro credente e cara credente che sei in ascolto. E adesso vai, Mosè, ne sai abbastanza per andare in Egitto. Vai a dire a tutti che il Santo e il Signore non può essere eliminato e si occuperà sempre di te, che tu lo voglia o no. Dio, il Sacro, vuole liberare uomini e donne, vuole strapparli ieri dall'Egitto, oggi da ogni situazione di schiavitù, di povertà, di oppressione. E in questa avventura di liberazione Dio vuole coinvolgere te, la tua vita e coinvolgendoti riempie la tua vita di speranza, di senso, di futuro. Perché sopra ogni altra cosa Dio vuole che anche tu sia libero o libera. Amen. SONIA DRIKÌNČNESI Grazie a tutti. Grazie a tutti. Falle conoscere il mistero di Cristo e ispira la sua testimonianza con la potenza del tuo Spirito. Affidiamo alla tua misericordia tutti coloro che soffrono, perché da te possano ricevere soccorso anche attraverso la nostra azione. Veglia sulle nostre autorità, suscita in loro pensieri di giustizia e di pace, perché agiscano secondo la tua volontà. Proteggi ogni villaggio, ogni città, ogni nazione. Insegnaci ad amarci gli uni gli altri e a conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace, così da pervenire un giorno alla gioia del tuo regno. Te lo domandiamo in Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore, che ci ha insegnato a pregarti così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Fratelli e sorelle, rallegratevi. Ricercate la perfezione. Siate consolati. Abbiate un medesimo sentimento. Vivete in pace. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, ora e sempre. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dai pastori Claudio Pasquet e Donato Mazzarella.